sotto lo scherzo vedrai che e attenzione Federico che tenterà a distruggermi anche il Joker il tecnico è un distruttore vedete che bello il Min Supervi27 che ha viaggiato per un po' quella sfumatura nera che vedete il regolatore esploso e se hanno usato la barca appunto ancora oggi a un anno distanto di grema mentre questo è il fantastico catamaran di Hidrosonic che va come una madonna però abbiamo ci siamo dimenticati di mettere un distanziale e l'albero che è attorcigliato e ha praticamente distrutto un albero comunque è una barca della madonna e non ho poi riuscito a vederlo andare per adesso l'unità che va è questa che è la più merda è la più truppo però è la quella che va e vediamo quelle senticelle che è questa e la va messa su cioè come sono la batteria vedi come si stampalla piscia si piscia 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 com'era vadovi all'acqua con il canotto? vai no ma com'era? vedi vai in acqua no non voglio vadovi all'acqua vedi tu vuoi caffè? aspetta vai no ma mettimela proprio qua di lato fai le pure fai le pure no gira di brutto con questo gira di brutto non hai problemi tanto hai visto che se si caffè si va te dritta vedi? 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 vedi sei troppo veloce non riesco a farti dietro con il tuo passaggio qua e lei e sei tu e lei sei tu e perché avendo il bike ci c'è anche la batteria e questa fa mi gire comunque non è che non sono disturbi di frequenza caputata prova per un otto secco piano piano no perché dipende anche della batteria come messa che bella